Sono qui davanti al seggio elettorale, mi vogliono far controllare la febbre dal raggio termolaser, io ho detto di no e stiamo qui discutendo con i garbineri se poter eseguire il mio diritto elettorale o meno. Aspettiamo. Sto aspettando l'esito. Sto aspettando l'esito. No, no, può passare, possono passare. No, aspettiamo. Aspetti che arrivi l'interessato. Sto aspettando l'esito. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.